Saper avere inizio la semifinale di ritorno della Western Conference, metteteli comodi dunque, manca pochissimo. Ci sarà da divertirsi Pierre, Galaxy, sono chiamati alla rimonta dopo quanto è successo nella gara di andata. Hanno tutte le possibilità per passare il turno, ovviamente gli amassari proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote. Ecco la formazione della squadra di casa, per questo match scelgono il 4-4-2. Nello specifico una delle due punte agirà in posizione leggermente più all'etrale rispetto al centroavanti. Probabilmente il tecnico vuole sfruttare la sua maggiore mobilità per creare scompiglio nella difesa avversaria. Ha perso il pallone. Chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo. Da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. Beh, è un giocatore con una tecnica, un controllo di palla che gli consentono di saltare gli avversari come Birilli. Quando è in giornata può davvero fare la differenza. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Baragna metri verso l'area. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Con questa palla e punta la porta. Attenzione, trova a calciare. E salva un gol già fatto. Il motore deve davvero ringraziare. Occhio al suo movimento. Medranda. Deve liberarsi dal pallone. Occasione. Gol che complica ulteriormente le cose per i Galaxy. Eh, non ci voleva. No, 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 no. Ora devono reagire in fretta se non vogliono interrompere. Qui il loro cammino nei play-off. Stefano qui, bravo l'attaccante, ma c'è da sottolineare l'errore del portiere. E direi di sì, Pierluigi si è lasciato prendere dalla fuga, lasciando incustodita la propria porta. Errore imperdonabile. Si avvicina all'area. Rimessa con le mani per i Galaxy. Alessandrini. Hunter. Hunter, fuori gioco, tutto fermo. Hunter in posizione di offside. Deve fare più attenzione, è giusta la chiamata dell'assistente. C'è spazio per andare. Attenzione, pericolo. Il portiere in presa sicura. Tocco di ritorno. Alexander. Lo ferma, ma non controlla. Alessandrini. recupera il pallone con un intervento facile. Baragni a metri. C'è spazio per andare. Sardes. tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Occhio cerca l'area di rigore. C'è un panno laterale a disposizione degli LA Galaxy. la traiettoria verso il centro. Pallone spazzato via bene dalla difesa. ci sono metri a disposizione. Anter. Alessandrini. Anter. Alessandrini. All'interessante dello spazio. ha spazzato il pallone in palo laterale. Può girare il pallone. Jermaine Jones. Attenzione, occasione. Rete. Splendida rete. Risultato che non basta. Per passare il turno devono farne almeno altri due per qualificarsi a causa della regola dei gol in trasferta. Potteggio della doppia sfida. Adesso li vede in svantaggio. Hanno pareggiato. Dunque, uno a uno. Sventa qui la minaccia. Sventa un'azione davvero pericolosa. Si andrà avanti a giocare per altri due minuti. C'entra in pieno il difensore. Spavere gli sfogliatoi dopo il primo tempo. Seconda frazione che ha inizio qui allo stop up center. Palla al piede. Ecco Hunter. Palla al piede. Jonathan Dos Santos. Buona l'intenzione, ma conclusione larga. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio al suo movimento. Chairman Jones. Alex Hunter è uno degli osservati speciali di questa sfida. Come se la sta cavando Stefano? Il risultato a parte può essere soddisfatto del suo primo tempo che l'ha visto Hunter. Super intervento del portiere. Distinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. Nedranda. Punta l'area. Palla schizza via dopo il contrasto. Chairman Jones. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Alessandre Lille. Ci sarà una rimessa con le mani dunque dopo il buon intervento del difensore. Giocatore che viene richiamato in panchina. Sentite gli applausi dei tifosi. Prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per dargli una meritata standing ovation. Cross in mezzo. Comoda uscita del portiere. Mustivar. Centriangolo. Hunter. Modagna metri verso l'area. A spazio, prova. Palla ancora lì. Ha evitato problemi mandando il pallone in corner. Esce dal campo tra gli applausi. Davvero una buona prestazione. Prova impeccabile la sua. Potrebbe valergli il premio di migliore in campo. Manovra interrotta dagli avversari. Manovra interrotta dagli avversari. Occhio cerca l'area di rigore. è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. con un buon intervento. Gerek Johansson, per un buon intervento. Gerek Johansson, per un buon intervento. Occhio alle sovrapposizioni. La sterzata verso il centro. Può metterla da lì. Ci sarà il calcio all'angolo per i Galaxy. e si. Difesa in difficoltà su questo cross. Ballanquo. Ha spazio per tirare. Interrompono bene l'azione. Ashley Cole. Mancano dieci minuti alla fine della gara. Baragna metri. Jermaine Jones. Ha intercettato il passaggio fermando una potenziale palla a gol. Avrebbe potuto decidere il match. Grande tempismo in questo anticipo. C'è spazio per andare. Giovanni Dos Santos. Alexander. Si porta in mezzo. Alexander. Nedranda. Mustivar. Il quarto uomo segnala due minuti di recupero. rossa verso il centro. Straordinario stacco di testa. La girata in maniera perfetta e ha trovato un gran gol. Grande tempismo, grande stacco per l'appuntamento col pallone. Si sono portati in vantaggio grazie a questo gol quando manca poco alla fine della gara. Qua è a mollare proprio ora credendo di avere già vinto. Finisce qui l'avventura per i Galaxy nel playoff fatali nel semifinale di conference. Ed è comprensibile la delusione sui volti dei giocatori. Ce l'hanno messa tutta ma non è bastato. Ci riproveranno senz'altro il prossimo anno. Per detto amarissimo in questi 180 minuti. Sfuma il sogno della semifinale. È un peccato Pierluigi. Ma del resto non hanno meritato di andare avanti.